eccoci amici cari da questa freddissima serata questa sera vediamo di essere non ottimisti ma perlomeno di pensare a qualche cosa di bello ormai stiamo parlando tutte quante le sere dei drammi che ci stanno circondando e continuano anzi peggiorano qualche piccola soddisfazione l'abbiamo avuta l'avremo qualche piccola vittoria voglio ricordare a tutti che che conseguentemente alle nostre denunce alla grandissima ondata di protesta il ministero della sanità sta sbloccando i nostri amici i nostri fratelli che sono in Brasile che nelle prossime ore ritorneranno finalmente in italiano in Italia li baciamo e abbracciamo con immenso amore ed affetto poi domani nella nell'incontro che faremo domani vi parleremo di questo nuovo governo che nuovo non è perché tre quarti dei ministri sono rimasti gli stessi e siamo siamo particolarmente addolorati che sia rimasto anche lo stesso ministro della sanità che è quello che è è l'artefice insieme all'ex presidente del consiglio che per fortuna sembra essersi dileguato è uno degli artefici del gravissimo stato di cose che stiamo vivendo vi vogliamo anche informare e lo faremo meglio nelle prossime ore che dai colleghi sardi valorosi è stato vinto il ricorso al tar del Lazio sulle mascherine e sembra che sia stata emessa proprio oggi la sentenza sulle mascherine per i bambini a scuola con quindi come vedete la nostra azione giudiziaria in tutte quante le sedi sta dando i suoi frutti noi non moriremo un attimo ma questa sera vogliamo voglio desidero desidero farci un augurio domani è una è una giornata votata all'amore caspita domani è san valentino è diventata una festa commerciale ma proprio perché domani non si potranno fare tante cose che in genere si farebbero domani e certamente nonostante tutto la giornata triste perché tante persone stanno soffrendo tante persone sono in ospedale tanti nostri cari parenti nonni allora quindi non non si potrà vivere perfettamente questa questa giornata ma noi vogliamo 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 unire la voglia di giustizia e la voglia d'amore ed è per questo che questa questo nostro incontro questa sera lo abbiamo lo abbiamo chiamato in questo modo giustizia e amore fanno rima con cuore perché tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo con il nostro cuore tra di noi abbiamo creato una collettività fantastica siamo diventati una famiglia ci vogliamo bene tante persone pregano per noi ecco in questa catastrofe abbiamo ritrovato anche la possibilità della possibilità di amarci di amarci tra amici tra conoscerti tra come come se fossimo ormai parenti allora in questa brevissima nostra nostro incontro questa sera voglio fare a tutti quanti un augurio voglio chiedere a tutti i domani di amare ma amare anche il nostro vicino di casa il prossimo chiunque c'è attorno a noi abbiamo bisogno di amore e lo dimostriamo lo dimostreremo a tutti quanti andrà il nostro abbraccio alle fantastiche combattenti che abbiamo accanto a noi doniamo questa rosa rossa simbolo d'amore e la doniamo a tutte le fantastiche donne combattenti che sono ogni giorno presenti con noi accanto a noi davanti a noi nelle nostre battaglie quotidiane a tutti quanti voi adesso andrà il nostro abbraccio domani domani baciamo chi amiamo un bacio a lunga la vita vi abbraccio con immenso affetto a domani sera grazie a tutti